Musica Hello guys, Radar here, benvenuti in questo nuovo episodio di Skywalk, speriamo l'ultimo Allora, facciamo l'ultimissimo livello, abbiamo detto che lì c'era una pedana Quindi giù e giù, ok, qua gli dobbiamo passare di lato come se fossimo dei mandarini acerbi Ok, grazie, e giustamente qua ci... qua ma, dico io, questa, no? Sto cercando di capire come evitarla ma penso sia impossibile a questo punto, grazie mille Ma se io volessi fare un salto così... Ah ma sono ancora fattibili, disse, prima di schiattare come un chiaroveggente su un treno a vapore Che cazzo ci fa un chiaroveggente su un treno a vapore? Vabbè, comunque... Ah, però sono di... no, sono di stone, se no potevo fare una provata enorme Una provata enorme, ma non l'ho fatta, mamma mia Perché vedete, se no facevo così Se no facevo così, ma se gli metto un blocco... no eh Aspettate, blocco? Neanche Nadas Ah, sono finite Ma sai che sono finite? Oh, che bello Allora, qua è notte, quindi noi mettiamo il giorno Perché se no non vedete nulla Perfetto Va di così No, no, no Stavo cadendo, stavo cadendo Che cazzo mi ha tirato appresso? Boh Vabbè Allora, io mi ricordo quella difficile era più avanti Se non ricordo malvagiamente male Ah, cerchiamo di non fare stronzate Tipo così Ok Saltiamo Saltiamo di qui Di qui e di lì Qua ce l'abbiamo fatta tutte le corsa, sicuramente Eccolo lì Te pareva, te pareva, te pareva, te pareva, te pareva Eh, però questa no Questa è bastardissima Cioè, questa è proprio bastardità Proprio Eh Cioè, fattore di Sì Scusatemi Abbiamo qualcosa per le ustioni Gravi Gravi ustioni No Manco per il cazzo Perfetto Allora, riproviamo Tut 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 Mi avete detto di tagliare di più Ma essendo l'ultimo livello Non lo voglio Ah, cazzo è vero Quello ti spingeva giù Non lo voglio fare Ma lo farò Quindi Taglio dopo Ok, guys Allora, siamo nel tunnel In the tunnel Ok Questo era quello buono Questo era quello molto cattivo Ok Questa era quello che non dovevamo toccare Assolutamente per nulla al mondo Ok Qua c'è Qualcosa Cosa cazzo è? C'ho una paura fottuta Di passarci Questo Oh cazzarola Ok Qua ce ne sono 14.999 Ok Cazzo Ma non posso passare No Cos'è quello? No Adesso sono stracurioso Voglio sapere cos'è quello Ragazzi, noi abbiamo Quest'ultima ender pearl Che useremo Là Mi sa dove sono morto adesso Quindi io taglio E poi Arriviamo di nuovo lì Tutti insieme What the fuck A dopo Ok, guys Ci siamo Questo parkour è dannatamente difficile Il problema è che lì Ci sarà sicuramente Un grosso problema A livello proprio Di Se vi faccio vedere Quale è il problema Prima Prima di tutto Skywalk Oh yes Allora Il problema lì Più avanti è che c'è Quella specifica colonna Che ha le TNT Adesso ci ritorniamo E vedete E vedete sicuramente Ha le TNT Perché è come quella Che ci ha fottuto Prima Ok Ok, guys Allora Io questo pezzo Vorrei farlo In tutta tranquillità Devo dirvi Però Senza cadere Possibilmente Ma come cazzo Devo fare? Perché Non riesco a regolarmi Sono troppo 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 Piccoli I cose di Come si chiama? Di Di vetro I panel Olli lì Non riesco davvero Cioè È proprio un problem Grosso Un grosso problem Qua sono finite le pozioni Qua andiamo Allora Quasi quasi Davvero Sarei tentato Da Staccare E far Farlo Mentre arrivo Dall'altro lato Però È brutto Davvero brutto Quindi vedo un attimo Dai ci penso Ci penso Intanto stacco Ritorno là Poi vediamo Ok Guys Allora Ci siamo Ci siamo Assolutamente Riproviamo Questa è l'ultima volta Se poi Non riesco a farlo Facendo vedere a voi Lo faccio Da solo Ok Corri 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 Ah ma è caduta giù Ma la porca Puttensa La porca La puttensa Nooo Che è caduta Che è caduta Stupidissima Che è caduta Stupidissima La davvero Potevo usare L'enderpearl Perché non l'ho fatto Era il momento Adatto Per usare L'enderpearl Adesso Non c'è più Il problema Del Eeeh Ah posso Passarci così Ah no Niente Era stata Solo una Gran botta Di culo Ehm Vabbè Ci ritorno Ci ritorno Ok Guys Allora Adesso Sono davvero Molto tentato Di utilizzare La La Enderpearl E la La useremo Perfetto Allora Apriamo questa chest Ok Cosa cazzo sono questi Ah occhio di regno Il fragment Il fragment The fragment Ok Sta Sta laggando Per colpa di queste cazzo Di nuvole E del mondo Che si Crea sotto di me Perché ogni volta Che muoio E risorgo Si ricrea Il muro E il Il mondo Ok Oh signore Che cazzo Ho un command block Oh 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 Ok Mi ha teletrasportato Allora Ehm Congratulazioni Hai completato skywalk Premi il bottone Ah Per piacere Scegli un bottone Allora Premi ancora Oppure i credit Per giocare Oppure premi qua Per i crediti Andiamo a vedere i crediti Visto che abbiamo già giocato Allora Ehm Ehm Ah Irvana Che figata Ehm Blablabla Redstone L'idea di Glacius Blablabla Multiplayer Builders Irubana E Lewis X Y Y X34 Ehm Vabbè Special tanks Blablabla Blablabla Allora Io a questo punto Go back Ok Ehm Qua Probabilmente Arriviamo a giovarla ancora Giusto Sì Dove siamo nati all'inizio Quindi questa era skywalk Spero che L'episodio Gaze Vi sia piaciuto A me questa mappa È piaciuta tantissimo È fatta davvero davvero bene Vi ricordo che la trovate In descrizione Nel canale E niente Divertitevi anche voi A fare un po' di queste Di queste Trollate Megagalattiche Che Mi hanno fatto tanto impazzire Tra salti Saltarelli Eccetera Eccetera Noi ci vediamo In un prossimo video Enjoy E colorina Secondo voi Bye bye